Per quanto riguarda il trasporto su strada, i membri del gruppo di lavoro hanno individuato tra le tecnologie fondamentali sicuramente quella dell'abbattimento delle emissioni di CO2, quindi soprattutto nuovi motopropulsori, pensiamo a quella che è in Italia l'importanza delle tecnologie del Common Rail, nato in Fiat, oggi il Multi Air e domani vedremo quali nuove tecnologie, su questo si sta lavorando molto proprio per migliorare sempre tutto ciò che riguarda abbattimento delle emissioni e miglioramento dei consumi per quanto riguarda le vetture. Altro argomento sicuramente importantissimo, tecnologia, è quella relativa alla sicurezza, la sicurezza ricordiamo ci sono in Europa un milione di incidenti all'anno e 43 mila morti, questi sono numeri che devono far riflettere, quindi sempre di più le tecnologie devono vertere verso nuove soluzioni che permettano un miglior funzionamento delle vetture stesse ma allo stesso tempo del rapporto con le infrastrutture, quindi con la strada e comunicazione veicolo infrastrutture. Per quanto riguarda infine tecnologie a più lungo termine, quindi vediamo l'elettrico, l'ibrido sicuramente sono temi sui quali bisogna investire e si sta lavorando molto. Ribadiamo dalle analisi fatte dal gruppo di lavoro, emerge molto chiaramente che l'industria italiana è pronta alla sfida ed è sicuramente in grado di poter portare avanti in modo concreto tutto ciò che può portare effettivamente a un'emissione dei prodotti sul mercato con successo. In parallelo anche il settore marittimo, il trasporto marittimo è molto importante, molto attivo, anche qua si sta lavorando in particolare sul comfort, per il miglioramento del comfort dei passeggeri a bordo nave. Ricordiamoci che oggi una nave è una grande città che viaggia, quindi c'è dentro di tutto e di più e tutte le tecnologie possono trovare la loro applicazione. Lo stesso vale anche qui per l'abbattimento delle emissioni e il miglioramento dei consumi. Queste sono sostanzialmente le cose fondamentali che si trovano nel nostro documento.